alla radice dell'anima dove il sentimento è istinto non c'è distinzione tra ciò che è odio e ciò che è amore libido un genere nuovo di suspense una sottile angoscia dove la bellezza è pericolo e l'amore si cambia in una diabolica arma per evocare le ombre del passato e i fantasmi dei terrori infantili e ieri ho visto te e per un momento mi sono sentito come lui anch'io ho provato il desiderio di stringerti mi lasci, mi lasci, mi lasci, lasciami Brigitte un invito alla notte e dalla notte qualcosa si muove un crescendo di suspense mai visto finora sullo schermo esplode in un allucinante finale illuminando per un attimo la spaventosa realtà Dominique Boschero l'enigmatica moglie di un giovane miliardario Mara Marill una rivelazione tutta bionda un continuo invito all'amore John Charlie Jones il giovane che ha paura di se stesso Alan Collins l'ambigua figura del tutore in un film nuovo di rara potenza emotiva che scava nei più inconfessabili recessi del nostro io libido libido di rara potenza emotiva